Allora che sei venuta a fare qua? No, niente, c'è... Pensavo che potremmo rimanere in buoni rapporti Non dico amici, ma è meglio provarci, no? È impossibile, lo sai Beh, infatti ho detto provarci Non so se ci potremmo riuscire E sei venuta a dirmi questo? E no, Mariano, sono venuta perché in realtà pensavo che forse quei soldi ti servono per comprare un negozio Stavamo insieme quando ho scattato quella foto E penso che la metà o anche di più se voi state Mariano dai, non guardarmi così Per favore non guardarmi così Io ho pensato che questa cosa che ti sto proponendo è una cosa giusta Ne ho parlato anche con mamma Anche lei pensa che quei soldi ti servono adesso Sono quattro anni che desideri quel negozio E poi mi sembra stupido una idea stupida che ti chiedi da dove vengono questi soldi Da dove vengono quei soldi? Da dove vengono questi soldi? Eh, da dove? Dal mio lavoro Ecco, bravo, appunto, dal tuo lavoro, non dal mio Tieni lì te Se farò anche io i soldi mi comprerò il negozio altrimenti farò quello che ho sempre fatto Bene Metti un po' d'acqua a questo ciclomino Se non muore